Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla, sono qui con un piccolo e breve video esplicativo per spiegarvi appunto come funzionano Pack-a-Punch e AT su Black Ops Cold War. Il funzionamento non è estremamente differente rispetto al passato, ma alcune cose sono state leggermente modificate. Se per caso non sapete ancora come attivare corrente e Pack-a-Punch, trovate in descrizione il tutorial che ho fatto a riguardo. Una volta che avremo costruito il Pack-a-Punch, sarà sempre possibile utilizzarlo in qualunque momento senza alcuna limitazione. Purtroppo il Pack-a-Punch è soltanto adesso una schermata e non soltanto la possibilità di inserire per 5.000 punti l'arma nel Pack-a-Punch e per altri 2.500 ripotenziarla a piacimento che sia per AT come in Black Ops 3 o anche per danno su Black Ops 4. In questo caso quindi possiamo potenziare qualunque arma per 5.000 punti e avremo appunto il simbolino del Pack-a-Punch di fianco al nome dell'arma e alle munizioni con un simbolo 1. Quindi questo è il potenziamento base. L'arma può quindi essere ripotenziata due volte, una volta per 15.000 punti e un'altra per 30.000 per aumentarne esponenzialmente il danno. La differenza ragazzi, specialmente in round leggermente più alti come un 25, un 30 e così via, si fa notare veramente tantissimo. Oltre che aumentare il danno a un costo comunque secondo me abbastanza elevato perché 15.000-30.000 punti non si fanno in maniera sicuramente istantanea, aumenta anche esponenzialmente il costo delle munizioni. Potete ovviamente comprare i colpi di qualunque arma, anche di Raygun e Wonder Weapon, che comunque vi ricordo non può essere potenziata nella cassa, a tutte le casse appunto di munizioni che ci sono in giro per la mappa. I colpi di base costano 250, se l'avete potenziato l'arma una volta costano 500, se l'avete ripotenziata 2500 e al potenziamento massimo sono 5.000 punti per ricoprare i colpi totali di qualunque arma, anche della Raygun. Come sistema di potenziamento non ho ancora capito benissimo se è bilanciato o sbilanciato perché comunque appunto richiede diversi punti per potenziare al massimo un'arma che poi diventa molto efficace e comunque 5.000 punti per ricoprare le munizioni sono abbastanza, ma se l'arma è come la Raygun molto molto forte, di punti se ne fanno veramente tantissimi. Passiamo invece a quella che sarebbe la schermata secondaria alternativa al Paka Punch che è per le AT. Le AT non vengono assolutamente applicate in maniera istantanea e automatica all'arma quando la potenziamo, dobbiamo decidere noi se applicarle oppure no per 2.000 punti. Le AT di Black Ops Cold War sono Gela Morti, Cavo Inerte, Attacco al Napalm e Squaglia Cervelli, molto simile alle vecchie AT di Black Ops 3 o anche di Black Ops 4, ma non assolutamente per potenza. Ho visto le AT attivarsi veramente pochissimo per quanto riguarda le mie partite, giusto una ogni 15 o 20 secondi, qui non so dirvi precisamente il danno che possono fare numericamente e quanto tempo di ricarica hanno queste AT. E giusto Squaglia Cervelli l'ho ritenuto abbastanza utile e forte, che fa 3-4 uccisioni circa, è simile magari al trasformato di Black Ops 3, ma dura molto meno ed è molto meno aggressivo. Mentre Cavo Inerte, Attacco al Napalm e Gela Morti non li ho ritenuti comunque così efficaci o così utili. Le AT non sono assolutamente vicine alla potenza di Black Ops 3, molto più simile magari a quelle di Black Ops 4, ma quelle di Black Ops 4 comunque facevano qualche uccisione. Questo è giusto un piccolo bonus che appunto potete anche non applicare alle armi, infatti io ne l'ho praticamente mai messe, giusto con Elemental Pop, il nuovo perk, ho visto tantissimo il loro utilizzo perché era completamente casuale e mi si attivava un pochino tutto quanto. Quindi ragazzi, questo è come funziona Pack-a-Punch e anche l'applicazione delle AT su Black Ops Cold War, è un sistema leggermente più semplificato ma secondo me comunque efficace, potenziare le armi è molto divertente anche se richiede molti punti, perché le armi comunque possono diventare molto forti. E diciamo che aver messo in secondo piano le AT potrebbe essere stata un'ottima scelta, sono giusto un piccolo bonus come effetto alternativo agli zombie che si infocano, si congelano, si bloccano per lo shock di cavo inerte, o giusto ogni tanto appunto diventa un squagliacervelli che fa qualche uccisione, ma non sempre più avanti può iniziare a shottare tutti quanti gli zombie. Vi invito a provare tante armi nel Pack-a-Punch, ovviamente la rega nelle Wonder Rep non sono tra le armi più forti, ma ricordate che un'arma specialmente leggendaria o epica, ben accessoriata con già un bonus di danno, se ripotenziata al massimo fa comunque il suo devasto anche fino a un round molto più alto. Ovviamente comunque dovete potenziare tutta quanta l'arma e spendere un tot di punti e anche ricomprare molto spesso le munizioni. Spero quindi che questo video informativo vi sia piaciuto e vi sia stato utile, se avete altri dubbi o altre informazioni che voleste sapere scrivetemelo qua sotto nei commenti, cercherò di rispondere a tutti quanti. Vi invito a seguirmi qua su YouTube per altri tutorial e altri video su Black Ops Cold War, vi invito a seguire anche i social che trovate qui sotto nella descrizione come Instagram, Twitch e generare anche il canale Discord. E noi ragazzi ci vediamo come sempre, al prossimo video, un abbraccio, ala!